Come voi sapete il PNRR è un programma che prevede una serie di adempimenti a livello di monitoraggio e rendicontazione che coinvolge molto i soggetti attuatori degli interventi, i quali sono chiamati a elaborare dei dati, a inserirli in un circuito di comunicazione per aiutare poi l'amministrazione centrale a valutare il grado di conseguimento degli obiettivi e quindi a rendicontare questi obiettivi al Ministero dell'Economia e delle Finanze che a sua volta li rendi conto alla Commissione Europea. In questa attività noi abbiamo messo a disposizione un sistema informatico che è il sistema Regis, che è un sistema che ha due tipi di finalità. La prima è quello di supportare i soggetti attuatori nelle proprie attività gestionali quindi nel comprendere come stanno realizzando i propri interventi e in che modo stanno contribuendo a conseguire gli obiettivi del PNRR e dall'altro lato consentire alle amministrazioni centrali di monitorare l'avanzamento degli obiettivi del PNRR e di poterli rendicontare. Per aiutare i soggetti attuatori in questa complicata attività di gestione e diciamo registrazione dei dati e l'utilizzo del sistema, noi possiamo migliorare o attivare dei canali di collaborazione con strutture territoriali come l'Anci regionale che attraverso i nostri presidi territoriali può mettere in piedi attività di supporto ai soggetti attuatori finalizzate fondamentalmente da un lato ad aiutarli a comprendere come espletare questi adempimenti e dall'altro lato aiutandoli proprio concretamente nelle fasi di espletamento di questi adempimenti. Pensiamo per esempio ai piccoli comuni dove c'è anche una difficoltà ad avere diciamo delle unità organizzative specializzate per fare questo tipo di attività, in questo caso noi riusciamo ad arrivare con la collaborazione con questi organismi che operano sul territorio a diciamo aiutare concretamente questi soggetti e in definitiva a contribuire a migliorare la comunicazione e la conoscenza anche con dati attendibili su quello che si sta facendo con il PNRR. Grazie a tutti.